Assessore Mondino, momento importante per parlare di bullismo e cyberbullismo. Ce n'è sempre bisogno, anche se ormai sono tematiche delle quali si parla tanto, però c'è forte questa esigenza. Tra l'altro oggi c'è stato il coinvolgimento di tutte le scuole della città. Sì, sono presenti tutte le scuole della città del primo e del secondo ciclo. Diceva bene, c'è sempre bisogno di parlarne, anche se è un tema su cui i social, le tv, i giornali certamente non mancano di concentrare l'attenzione. Però questa formula che abbiamo pensato per questo convegno, che tra l'altro cade nella giornata nazionale del bullismo e del cyberbullismo, è una formula che dà voce ai ragazzi, più piccoli e quelli più grandi. Abbiamo voluto sentire il loro punto di vista sul tema del bullismo e l'hanno fatto attraverso disegni, cartelloni, video, cortometraggi. Io che ho già avuto modo di visionarli, devo dire che hanno una grande consapevolezza della problematica sia del bullismo che del cyberbullismo. E quindi questo comporta a noi adulti, a noi educatori, alle forze dell'ordine, di continuare a modulare in modo diverso il rapporto con i giovani rispetto al tema del bullismo. Perché non sono analfabeti del tema, sono consapevoli anche i più piccoli. Poco fa, durante il convegno, proprio i più piccoli hanno dato atto di tutto ciò. Capitano, il bullismo è un reato finalmente in Italia, ma lei soprattutto oggi ha invitato questi bambini, questi ragazzi a vedere nei carabinieri l'amico, quella persona che può anche dare un consiglio prima di arrivare poi eventualmente a sfociare nella denuncia. Sì, certo, assolutamente. La legge da poco tempo ci dà la possibilità non solo di denunciare o di correare qualcuno, ma ci sono anche dei temperamenti prima della denuncia che danno la possibilità di rinsavire, quindi di cambiare idea, di poter comunque correggere quel tipo di condotta. Io ho invitato i ragazzi, i genitori, ma anche i ragazzi a venire a entrare in caserma non solo per uscirne con una denuncia o una querela o con un atto formale, ma anche per un consiglio, per cercare di fare capire che noi è vero che siamo i tutori della legge e cerchiamo ovviamente anche di reprimere determinati tipi di condotto e quando serve. Ma siamo anche poi quei consiglieri, anche quel momento anche di riflessione, della possibilità di capire cosa si può fare e cosa non si può fare prima di arrivare poi ovviamente a cose un po' più importanti e formali. Si è puntato molto in questi ultimi anni proprio a questo tipo di incontri con le scuole e nelle scuole l'Arma dei Carabinieri è stata molto presente proprio a svolgere quest'opera di sensibilizzazione. Sì, certo, c'è proprio un protocollo con il Ministero dell'Istruzione e con l'Arma dei Carabinieri proprio per cercare di essere tra i giovani, questo perché è importantissimo cercare di stare con loro, stare nelle aule e farli capire cosa facciamo, quello che facciamo noi come tutte le forze dell'Ordine ma soprattutto cercare di esserli vicini anche per qualche consiglio in più e per cercare anche di avere un po' il polso della situazione per vedere come loro lavorano, come loro vivono il mondo di oggi e cercando anche ovviamente di dargli qualche consiglio in più. La vostra istituzione affronta spesso queste problematiche ormai di grande attualità di bullismo e di cyberbullismo, si parla finalmente dovremmo dire però non è mai sufficiente. Voi che tipo di supporto date anche alle istituzioni a chi poi ha il compito di educare i giovani? Noi lavoriamo già da quattro anni con un progetto che utilizza una metodologia che ormai è una vanguardia educativa che è la Peer Education. Lavoriamo sul campo soprattutto della prevenzione dando fiducia ai nostri alunni in quanto promotori di buoni comportamenti all'interno delle istituzioni scolastiche. La Peer Education prevede che in ogni istituto scolastico ci sia un gruppo di peer educator opportunamente formati e una sorta di buoni untori, di buoni comportamenti circa 20 per ogni istituzione scolastica che lavorano però all'interno dell'istituto a classi aperte proprio per promuovere i comportamenti sociali e che siano di antidoto ai comportamenti invece antisociali. La nostra rete è costituita da 35 istituzioni scolastiche di tutta la regione Sicilia ed è in parternariato con le forze dell'ordine, con il Tribunale per i minorenni della regione Sicilia, con Generazioni Connesse, con la Polizia Postale, con tutta una rete di istituzioni con le quali collaboriamo e che ci danno anche supporto nelle attività formative. Che tipo di risultati, chiamiamoli anche così, avete avuto modo di cogliere in questi anni? Allora certamente risultati tangibili si potranno vedere nel lungo termine. Dopo quattro anni abbiamo già comunque dei dati che riguardano la riduzione del fenomeno della dispersione scolastica perché i soggetti a rischio di dispersione sono propri soggetti deboli, soggetti che non trovano nel contesto scolastico probabilmente quel clima di accoglienza che noi invece col progetto cerchiamo di promuovere. Un altro risultato molto importante è che la pratica della peer education non si è limitata alla realizzazione delle attività progettuali contro il bullismo ma si è estesa come pratica ordinaria, pratica didattica ordinaria dove i peer educator vengono coinvolti e utilizzati anche nei casi di situazioni limite all'interno delle istituzioni scolastiche per recuperare delle situazioni di disagio. Sono dei veri e propri esperti di comunicazione sono i riferimenti dei pari per qualsiasi problematica che nella scuola può nascere soprattutto quando a essere coinvolto è uno stile comunicativo, uno stile di azione che tende a utilizzare più la prevaricazione che il dialogo. Si è svolta molta opera di sensibilizzazione negli ultimi anni sul tema del bullismo e del cyberbullismo eppure ancora si continuano a verificarsi purtroppo questi fenomeni sono notizie di cronaca quello è l'atteggiamento che ancora persiste da parte della vittima, quella paradossalmente di sentirsi in colpa, di voler nascondere questo problema? Allora come ben detto si sta facendo tanto sul nostro territorio, io personalmente dal 2016 che cerco di essere presente in tutte le manifestazioni che appunto affrontano questo tema del bullismo e del cyberbullismo. L'atteggiamento della vittima è sempre quello di avere difficoltà a trovare le parole e a uscire dal silenzio e quindi il fenomeno sta emergendo però c'è ancora tanto sommerso, noi ce ne accorgiamo poi nelle stanze di terapia o comunque lavorando con il disagio e con il disadattamento perché purtroppo dobbiamo pensare che il bullismo è un vero e proprio trauma, quindi una ferita dell'anima che comunque se non viene elaborata e se non viene attenzionata rimane e può dare degli esiti psicopatologici, non sempre però purtroppo può accadere e quindi l'atteggiamento della vittima è proprio quello di non riuscire a trovare molto spesso le parole o comunque qualcuno che ascolti le sue parole o che vede il suo disagio. Non è un fenomeno chiaramente nato negli ultimi anni, è sempre esistito il bullo e però come la figura del bullo è cambiata negli ultimi anni fino poi a portare anche lo Stato italiano a riconoscere il bullismo come un reato, quindi si è presa coscienza che in effetti è un problema grave. Sì, allora la coscienza di formulare una legge è venuta proprio a seguito delle tante vicende ma soprattutto di quella di Carolina Picchio, infatti la 14enne che si è suicidata nel 2014 proprio a seguito di cyberbullismo ed è stata proprio la senatrice, una senatrice che ha portato avanti questa proposta di legge che poi era la sua insegnante di scuola, quindi diciamo l'averlo vissuto in primo piano ha sensibilizzato moltissimo queste persone che hanno portato avanti la loro voce ma il fenomeno è diventato più grave ed è un fenomeno sociale perché con l'avvento di internet e del web è diventato cyberbullismo, quindi è molto più veloce, è incontrollabile e purtroppo c'è molta più possibilità che avvenga in poco tempo. Quindi in poco tempo una persona può vedere la propria reputazione denigrata e purtroppo quando si tratta poi di minori, si tratta di persone ancora in formazione quindi con una certa fragilità per cui è necessario poi apportare degli interventi riparativi, correttivi che purtroppo nel mondo adulto molto spesso tardano ad arrivare. Vocato Livio, il bullismo è diventato un reato e qual è l'approccio che il ragazzo e la famiglia hanno dal punto di vista legale quindi nell'affrontare questa problematica? Adesso con la giurisprudenza del 2017 con la sentenza resa dalla Corte di Cassazione, la 28623 abbiamo appunto la conferma che per gli atti che si protraggono nel tempo come il bullismo e nel cyberbullismo abbiamo, che possono sconfinare in quelli che sono i reati tipici, quali gli atti persecutori vi sono delle condanne, delle condanne che possono andare da sei mesi a cinque anni quindi delle condanne pesanti. È chiaro che la famiglia, la scuola e tutte le istituzioni siamo chiamati sia nel momento della prevenzione che nel momento del contrasto quindi qualsiasi fenomeno che nell'apparire può sembrare o può essere sottovalutato deve essere nell'immediato attenzionato e dalla scuola e dalla famiglia e anche dalla società stessa molto importante e il messaggio che vorrei passare oggi è un nuovo approccio nella vita è quello che molti pensatori, filosofi e fisici di questo periodo, ad esempio Carlo Rovelli è un approccio alla vita che deve essere dato attraverso la gentilezza quindi un nuovo costume nell'approccio con la realtà e con i compagni quindi l'unione e non la divisione, è l'accoglimento del diverso Una manifestazione che coinvolge i giovani di tutte le scuole della città e chiaramente la consulta è in prima linea che tipo di iniziativa intendete portare avanti proprio sul tema del bullismo, del cyberbullismo? Questa è una delle prime cose che abbiamo detto sul bullismo già dalle prime riunioni ci siamo insinuati da pochi mesi quindi ancora è un periodo di rotaggio nel futuro noi siamo aperti al dialogo la consulta giovanile come struttura è un organo contrario a ogni forma di emarginazione a ogni forma di violenza quindi chi lo sa che forse permettendo non possiamo ancora più battere su questo non possiamo aprire un dialogo con i dirigenti scolastici con le scuole al fine di sensibilizzare magari anche più di una volta l'anno questo tema Grazie a tutti Grazie a tutti